Berezzi quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare un po' a mettere la formazione in vista della prossima giornata del Fanta Calcio una giornata difficile, la 26esima per quanto riguarda ovviamente la nostra Lega la 28esima di Serie A paese importanti in cui affronto il terzo ultimo in classifica capare i punti poi col penultimo importante per cercare di migliorare la mia posizione in classifica e magari puntare a qualcosa di più del quinto posto allora vediamo se l'ho già messo la formazione no, ma comunque ho ancora molto tempo per farlo tocca a me andare un po' a vedere chi schierare e chi no e partire subito dalla porta allora, modulo che penso comunque di sì, di mettere questo 3-4-3 sì, sì, alla fine sì allora in porta in porta non è semplice Cranio sta facendo molto bene però gioca con la Lazio quindi onestamente eviterei Vicario a Genova a Genova con il Genoa potrebbe starci uno 0-0 se ci pensiamo però io punterei più su Silvestri nonostante l'Udinese sia una squadra un po' particolare e la Samp pure è una squadra molto particolare soprattutto con il ritorno del maestro Gianpaolo però onestamente io punterei più su Silvestri in questo momento anche se Vicario pure mi intriga è un portiere che fa sempre abbastanza bene almeno a livello di voti prende sempre 6-6,5 quindi però a questo momento punto più su su Silvestri per quanto riguarda invece la difesa allora direi di buttare dentro Molina proprio contro la Samp quindi sempre un giocatore dell'Udinese poi voglio dare fiducia a Bilaghi che nell'ultimo periodo lo sto facendo molto bene però voglio dargli fiducia e poi allora Rezza con la Juve lo eviterei Ehrlich idem Karlsdorp con l'Atalanta una partita un po' particolare e quasi quasi punto proprio su Bremer anche Aps però lo metto primo panchinaro Aps lo metto primo panchinaro non lo rischio come titolare punto più su Bremer a centrocampo è in centrocampo invece un pochino più complicata perché allora io onestamente eh qui ce ne sono tanti che si potrebbero mettere allora Svanberg non sto facendo molto bene lo eviterei Barak pure per il semplice fatto che è uscito infortunato potrebbe non giocare e se dovesse giocare giocherà poco quindi non lo eviterei poi frattesi io lo butterei dentro do fiducia anche a Bairami contro il Genoa poi Pereira ha giocato la scorsa e voglio provare a metterlo dentro e mettiamo anche Luisa Alberto Sottil pure mi intriga allora Sagi Oliveira onestamente vabbè non ha giocato in realtà la scorsa volta alla Spezia quindi potrebbe essere più in forma però come vedete la percentuale non è altissima non lo rischierei sinceramente con l'Atalanta Sottil col Verona potrebbe essere interessante però sinceramente lo voglio mettere in panchina mentre davanti vediamo un po' allora davanti anche qui è molto intrigante sta giornata eh molto molto intrigante allora io è difficile comunque con i colpi di mercato che ho fatto a gennaio è difficile perché come vedete un po' tutti sulla stesso livello sono più o meno e non è semplice allora io onestamente non giocherei non metterei Nico Gonzalez sa giornata lo eviterei voglio dare fiducia a Brecalo contro il Bologna poi eh voglio dare fiducia eh non sono deciso in realtà che stavo pensando a uno tra Beto e Abram Cutronico Gonzalez non li metto Caprari lo voglio mettere però lo voglio mettere esterno non so vabbè sono sparite le percentuali vabbè non è un problema spero andati facciamo così metti Caprari qua e uno tra Beto e Abram davanti sono un po' indecisi in realtà Beto contro la Samp però non se ne dà molto tempo Beto e Abram e alla fine Abram io metto Abram ragazzi voglio buttare dentro Abram ma voglio dargli fiducia con Beto Primo Panchinaro poi Nico Gonzale Secutrone in realtà diciamo che questa giornata ho diversi dubbi in realtà perché devo dire che tutti affrontano partite sullo stesso piano più o meno e quindi non è semplice a partire dalla porta dove io in questo momento preferisco Silvestri ma anche Vicario potrei pensare di metterlo in difesa in realtà non ho grandissimi dubbi così come centrocampo l'unico mezzo dubbio è quello di mettere sottilo meno però in questo momento preferisco evitare di di metterlo al massimo primo Panchinaro e davanti più che altro ho il dubbio due dubbi Abram due ballottaggi Abram Beto e Nico Gonzales Caprani in questo momento però punto più su Abram e Caprani con Beto e Nico Gonzales in panchina però essendo che manca ancora diverso tempo mi riservo il diritto eventualmente di cambiare la formazione all'ultimo magari cambiano un po' di ci sono infortuni cose così però comunque devo dire che davanti a questa giornata ho diversi dubbi ma per ora questa è la formazione quindi 3-4-3 con Silvestri in porta Molina Biraghe Bremer in difesa Frattesi Bairami Pereira e Luisa Alberta centrocampo davanti Brecalo Abram e Caprani a questo punto mi fermo ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi